Buongiorno FTA Online, c'è attesa per la riunione della Banca Centrale Europea di oggi, gli indici sono in leggero calo, niente di drammatico, però l'impressione è che ci sia stato un cambiamento di sentiment dopo il tentativo di rimbalzo che abbiamo visto nelle ultime sedute, del resto era un po' nell'aria da un punto di vista grafico, vi ho ripetuto più volte che secondo me questa fase di rimbalzo è solo un movimento intermedio di una correzione più complessa, è vero che il nostro Futsimib è salito sopra il 61,8% retracement del ribasso dai massimi di gennaio, ma vi avevo anche detto che da solo difficilmente il Futsimib può fare delle fughi in avanti a meno che anche gli altri mercati non seguano, questo è il grafico del DAX, vedete invece abbondantemente ha di sotto il 61,8%, anzi ieri ha provato a superare il 50% retracement, ma in chiusura era ritornato proprio sul livello di ritracciamento e sulla media mobile esponenziale 20 giorni che è questa curva rossa e oggi è tornato al di sotto di i livelli, questo rimbalzo che abbiamo visto nelle ultime sedute se lo andiamo ad analizzare vi faccio vedere che cosa potrebbe essere, se tracciamo una linea sottostante e una linea sopra, vedete si tratta tutto sommato di due linee parallele, quindi un canale e spesso i canali quando si realizzano in questo modo con un ritracciamento solo parziale del movimento precedente rischiano di essere introduttivi alla ripresa del ribasso, si tratta quindi di un flag correttivo, per dire che non è un flag bisognerebbe che i prezzi salissero al di sopra del lato alto del canale e quindi anche al di sopra del 61,8% retracement, in quel caso il rischio che sia un flag che verrebbe negato e ci sarebbe la possibilità poi di salire invece nuovamente sui massimi di gennaio, però per adesso lo scenario è questo. Per quello che riguarda l'Eurostock 50 siamo in una situazione intermedia, in questo caso c'è stato il test del 61,8% che come vi ho fatto vedere il nostro indice Fuzzimiba superato mentre il DAX si è fermato poco prima, l'Eurostock 50 è andato proprio esattamente a testare il 61,8% e da quei livelli è avviato una discesa. È vero che siamo ancora al di sopra dei minimi di due giorni fa, se andiamo a prendere anche qui il grafico e lo analizziamo in dettaglio, vedete che qui c'è stata questa candela ieri che ha invertito la rotta rispetto alla precedente, però se andiamo a guardare meglio vediamo due cose, innanzitutto che il rientro al di sotto della candela precedente non ha superato la metà, è vero che la candela ha fatto un nuovo massimo e poi è rientrata all'interno della precedente, però non si tratta di un vero e proprio pattern ribassista perché per avere un pattern ribassista dobbiamo avere la candela precedente poi seguita da una candela successiva, diciamo che questa candela sia una candela rialzista quindi verde la facciamo dal stesso colore che c'è qui, poi la candela successiva è invece una candela ribassista, quindi la facciamo rossa, ma perché si possa parlare di una figura dark cloud cover che è quella che viene catalogata come figura di inversione bisogna che la seconda candela rientri al di sotto del 50% della prima, cosa che ieri non sono? Quindi una figura potenzialmente ribassista, vi ricordo sempre che poi serve la conferma per parlare di inversione, quindi servirebbe la violazione dei minimi di due giorni fa che sono collocati a 41,78, quindi a 4178 punti. Il minimo di questa mattina è stato a 4178, quindi c'è ancora una manciata di punti che ci separa dall'inviare un segnale negativo sotto 41,78 di Eurostock 50, potrebbe essere confermato questo dark cloud cover che come vi ripeto però non è così netto come realizzazione e in quel caso anche qui ci sarebbe il rischio visto che ci siamo fermati sul 61,8% di tradesment, di dover considerare il rimbalzo che ci ha riportato appunto su questo livello di ritracciamento solo la fase intermedia di una correzione che ancora non è terminata. Se dopo la BCE i prezzi dovessero invece riuscire a lasciarsi alle spalle area 4,250, in quel caso si potrebbe iniziare a puntare al ritorno verso questa trendline che unisce i precedenti due massimi, quindi ci sarebbe sicuramente la possibilità di assistere a un rimbalzo più consistente. Per quello che riguarda il cambio, qui abbiamo l'Euro-Dollaro, vedete ne avevamo parlato più volte negli ultimi giorni, avevamo detto che questo era un flag flag correttivo, flag che ritorna come terminologia, l'ho già citato poco fa, vedete quando si ha un canale di questo tipo che ritraccia parzialmente un movimento precedente, di solito questo canale si dimostra essere correttivo, nel caso di un ribasso la violazione della base del canale fornisce il segnale di ripresa della tendenza negativa, di solito come accade spesso quando c'è la violazione di una linea di supporto importante, succede sia nei testa a spalle che nelle altre figure di inversione, ma anche nelle figure di continuazione, dopo la violazione della linea c'è quello che si chiama return move, cioè i prezzi tornano a vedere dal basso alla linea, se come in questo caso ci si fermano e non rientrano al di sopra, non ritorno al di sopra, molto spesso questo ritorno si dimostra solo una fase di congiunzione tra due momenti ribassisti, quindi ancora una volta, tra l'altro visto che qui abbiamo corretto circa il 50% dell'andata con questo rimbalzo, resta uno scenario favorevole al dollaro, se dovesse tornare sopra 1,1350 si potrebbe cambiare idea, ma finché siamo sotto 1,1350 resta probabile una discesa verso area 1,10. Questo è invece il grafico del Bitcoin, ve lo riporto perché come vi avevo detto ieri è in questo momento abbastanza sintomatico anche di quello che accade al Nasdaq, eravamo arrivati su una resistenza importante, linea di tendenza che parte dal massimo di novembre e media mobile esponenziale a 20 giorni, per adesso la resistenza ha tenuto e i prezzi se ne stanno allontanando, come del resto abbiamo visto o vedremo anche per la borsa americana, c'è una virata negativa più evidente sul Nasdaq, ma è evidente anche su questo grafico dell'S&P 500, i future americani sono in netto calo, penso che su questi influirà poco la decisione della BCE, che in ogni caso non è attesa nessuna decisione su un cambiamento politica monetaria, ma solo eventualmente un nuovo riferimento all'inflazione e sui titoli americani pesa di più l'andamento dei trimestrali, ieri ci sono stati alcuni movimenti molto bruschi, il più evidente di tutti come immagino avrete visto è quello di Meta, cioè di Facebook che è in calo dopo la trimestrale del 20%, ovviamente si parla di un mercato non ufficiale, vedremo oggi come apre sul mercato ufficiale e che influenza avrà sulla borsa americana. Qui quello che si vede sull'S&P 500 è un quadro non particolarmente incoraggiante, saltano agli occhi un paio di elementi, il primo la candela di tipo Shooting Star che si è disegnata ieri, vedete questa lunga coda verso l'alto con questo piccolo real body nella parte bassa della candela è tipica di una situazione di debolezza, compare quando il rialzo è come si dice un po' alla frutta, cioè quando non c'è più una grossa forza dietro il rialzo e lo Shooting Star è comparso sia sulla media mobile esponenziale a 50 giorni che è la curva verde che vedete che i prezzi hanno toccato ieri, sia sul 61,8% di retracement del ribasso dal massimo di inizio di gennaio. Quindi ancora una volta il rischio qual è? Che ci sia stata questa prima ondata ribassista seguita da un rimbalzo e che adesso parta un nuovo movimento di discesa, se questa ipotesi fosse corretta il rischio è che il nuovo movimento di discesa sia di ampiezza proporzionale a quella che abbiamo visto nella prima fase, quindi una discesa uguale a quella che c'era già stata nel mese di gennaio, ci porterebbe questo ovviamente al di sotto dei minimi di gennaio. Sopra area 4.600 anche qui si potrebbe iniziare a sperare invece in un rimbalzo più esteso addirittura che ci potrebbe riportare proprio sui massimi di gennaio. Per adesso però attenzione perché questa resistenza si è dimostrata veramente molto tenace e come vi ho detto ci sono tre elementi che concorrono a dare consistenza a questo ostacolo e quindi sarà molto difficile per l'indice riuscire a lasciarselo alle spalle. Passiamo adesso al grafico di due ETF che vi avevo menzionato negli ultimi giorni, questo è quello relativo al comparto banche dell'Eurostoxx, è la versione con leva 3, lo trovate come codice 3BAL, da non confonderlo con il 2BAL, no è una battuta ovviamente non fa nemmeno forse troppo ridere, però sdrammatizziamo un po' al momento e vi avevo detto che c'è questo test di questo lato alto del canale molto importante, l'indice settoriale è arrivato su questi livelli con una forza evidente, attenzione però perché finché non c'è la rottura del lato alto del canale, come spesso accade, i canali si generano perché i prezzi oscillano al loro interno, quindi dopo il test di uno dei due limiti diventa probabile un movimento prima verso l'area intermedia, quindi la linea mediana e poi se anche questa viene superata verso il limite opposto, pertanto ci potrebbe essere anche un rischio di ritirata dopo il bel rimbalzo che abbiamo visto dai minimi di gennaio, tra l'altro notiamo che i massimi di ieri sono coincidenti con i massimi di gennaio, quindi diciamo che c'è una duplice resistenza anche in questo caso a sbarrare la strada al rialzo, ovviamente il comparto bancario pesa molto sia su tutti gli indici europei ma in particolare su quello italiano, quindi senza la rottura di questa resistenza sia sul settoriale che anche su questo ETF che al settoriale legato, rischiamo di vedere franare non solo il comparto ma tutta la borsa e questo invece è l'ETF relativo al petrolio, al crude oil, in questo caso relativo al petrolio WTI, quindi a quello americano e anche qui vi avevo segnalato che c'è la presenza del lato alto di questo canale e anche qui i prezzi stanno facendo molta fatica nel lasciarselo alle spalle, se dovessero riuscirci c'è spazio di crescita, c'è uno spazio di crescita notevole, però attenzione perché se questo non dovesse accadere invece c'è il rischio di un ritorno almeno verso la mediana e anche qui sappiamo che il comparto energetico sul nostro indice pesa, quindi se dovesse esserci questo ritracciamento del prezzo del greggio ovviamente anche l'energia ne risentirebbe, ma andiamo a guardare un attimo quella che è la situazione che sta comportando questa tensione sulle borse europee al di là dei soliti temi che sono la geopolitica, quindi le tensioni in Ucraina e ovviamente anche il Covid che ancora non è ininfluente nella situazione economica e ci sono delle spinte che qualche dubbio sulla tenuta dell'economia la fanno vedere, questa è la sintesi degli indici PMI, quindi degli indici di direttore acquisti per l'Eurozona che sono considerati un ottimo indicatore dello stato di salute dell'economia, il PMI dell'Eurozona composito, quindi servizi e manifattura, è sceso nella lettura finale di gennaio a 52,3 da 53,3 di dicembre, è il livello più basso da febbraio dello scorso anno e le stime erano 52,4, quindi più o meno allineate con quello che poi è stato il dato, il commento degli economisti di market che è quella che rilascia il dato, sono che l'economia della zona Euro è rallentata ulteriormente a gennaio dopo aver visto un debollidimento della crescita economica nell'ultimo trimestre del 2021, quindi non è certo una buona prospettiva. In difficoltà il settore dei servizi, che è quello ovviamente più colpito dal ritorno del Covid e delle successive restrizioni, che è sceso a 51,1 da 53,1, in Germania invece ha tenuto, è partito da 48,7 a dicembre, è salito fino a 52,2, in Francia è sceso in maniera notevole da 57 a 53 e in Italia è sceso nuovamente al di sotto della soglia di 50 punti che è quella che separa espansione da contrazione. Nel frattempo mentre parlavamo vedo che è uscita questa notizia che la Banca d'Inghilterra ha appena alzato nuovamente il tasso di interesse proprio per contrastare l'inflazione, già c'era stato un intervento a dicembre, adesso a gennaio c'è già stato un secondo intervento, questo è quello che potrebbe accadere anche con la Federal Reserve a partire dal mese di marzo. Parlando di inflazione, l'altro tema, quindi c'è da un lato il rallentamento dell'economia che viene descritto dall'andamento di questi indici PMI, Italia compresa, e l'altro aspetto invece molto preoccupante è questo dell'inflazione che nella zona Euro è salita del 5,1% su base annua con un consensus che era di 4,4 e ormai nonostante quello che potrà dire la Banca Centrale Europea dopo la riunione di oggi, gli investitori scontano un rialzo dei tasse di 10 punti base entro luglio. Questo potrebbe essere anche un po' il motivo per cui abbiamo visto quel rimbalzo dell'euro-dollaro prima, perché con l'inflazione in crescita ovviamente la Banca Centrale Europea sarà costretta ad intervenire e potrebbe ridursi un po' il differenziale dei tassi, soprattutto il prospettico che c'è tra dollaro e euro. In dettaglio ad aumentare e quindi a condizionare il risultato del dato sull'inflazione è stata l'energia che a gennaio ha fatto registrare un più 28,6% dal più 25,9% di dicembre. Questo è il grafico che era disponibile sul sito di Eurostat e vedete come sia molto significativo il rimbalzo dei prezzi di energia, tuttavia anche senza considerare quello che condiziona pesantemente il risultato finale, vediamo che anche gli alimentari sono saliti del 3,6% e quindi diciamo che in generale questo aumento del costo di energia si sta trasferendo anche sugli altri beni e di conseguenza diventa difficile pensare come ha tenuto a farci pensare la BCE negli ultimi mesi che si tratti solo di un fenomeno temporaneo che andrà a riassorbirsi da solo nel corso del 2022. Ritengo che questo purtroppo non sia plausibile e possibile e quindi la BCE secondo me oltre a questo intervento che dovrà fare entro luglio, che il mercato probabilmente ha già scontato, dovrà mettere in atto almeno altri due nel corso dell'anno, poi staremo ovviamente a vedere cosa succede. Quindi temo che sulle borse ci siano questi due elementi, rallentamento della crescita economica, aumento dei prezzi con conseguente aumento dei tassi che mette in moto una spirale perversa, ovviamente aumenta il costo del denaro e in contemporanea con l'inflazione diminuiscono i consumi, sono tanti i comparti che vengono colpiti da questi due elementi e ovviamente l'unico che all'inizio si avvantaggia il rialzo dei tassi che è il comparto bancario, poi a medio termine rischia poi di andare a scontare nuove insolvenze e di entrare anche lui nuovamente sotto pressione. Quindi diciamo uno scenario non particolarmente brillante. Quello che potrebbe salvarci è un colpo di coda della crescita economica che invece grazie anche per quello che riguarda l'Italia, agli aiuti che arrivano dall'Europa magari riesce a non subire troppo questi effetti negativi con gli aiuti esterni e allora in quel caso diciamo che i due effetti si compenserebbero e si potrebbe magari riuscire ad attraversare questa fase difficile senza troppi danni per le borse. Tutto questo ovviamente non ha a che fare con il breve termine ma con il medio termine potrebbe essere particolarmente significativo. Per quello che riguarda invece gli utenti Patreon andiamo a guardare oggi 4 grafici interessanti, Banca Sistema, Cellular Line, Ferrari e Sugar Frames per i quali i broker hanno modificato giudizi e target price, cosa che andiamo a guardare in dettaglio nel video riservato agli utenti Patreon. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.